Sono Andrea e sono venuto a The Voice per inseguire l'emozione. Quando canto mi sento completamente in empatia con gli altri e sincero. Andrea Bottolini, di dove sei? Sono di Brescia. Porca vacca. Porca vacca, partiamo malissimo. Non so più cosa dire, sei eccezionale. Sei eccezionale. Farei qualunque cosa per avverti nel mio team. Scegli lei che ti troverai bene perché con Cristina la fortuna ti è vicina. Grazie mille. Ma qualunque benvenuto in The Voice. Grazie. Cristina mi trasmette spontaneità, cioè è vera. Asia, Mara, Andrea e Graziana sono pronti sul palco. Diamo inizio al secondo knockout del team di Cristina Scambia. Non ti ho amato mai. Amore che vieni. Amore che vai. E spero che il cuore insomma mi guidi nella giusta direzione e decido di portare alle battle Andrea. Il primo che si emoziona sono io e di conseguenza penso si emozionino anche gli altri. Esibirsi comporta non avere maschere. Mi uccidete ma lo stomaco mi dice Andrea. Andrea è il secondo finalista di The Voice of Italy. Allora ci siamo, il conto alla rovescia è terminato. Sono qui con il mio finalista Andrea, ha spaccato durante tutta la trasmissione, però è importante non solo farlo arrivare in finale come è arrivato fino a ora, ma farlo vincere. Quindi mi raccomando condividete questo video il più possibile perché se lo merita, il mio ragazzo se lo merita. Sono Andrea e sono venuto a The Voice per inseguire l'emozione pura. Comunico con il mondo attraverso la musica che la mia spinta è il mio sogno. Spero di non svegliarmi.